Buongiorno a tutti, eccoci arrivati con un nuovo video del sabato, in questo caso un video assolutamente operativo, non come gli altri, ma gli altri continueranno, quelli sulle frasi diciamo di alcuni trader interessanti da andare a seguire. Ok, quest'oggi appunto un video operativo, un video operativo che andrà a esaminare una coppia di valute in particolare che è Neo Zelanda Yen, come ovviamente vedete sul titolo di questo video, perché può diventare interessante per quanto mi riguarda, per il mio trading privato, ma anche per quello che può essere una condivisione di una possibile operatività che ovviamente poi farò anche nel servizio Platinum di Yearforex. Prima di iniziare questo video vi chiedo sempre di lasciare un mi piace alla fine del video, se il video vi è piaciuto, e di iscrivervi a questo canale se quello di cui trattiamo e quelle che sono un po' le varie tematiche vi possono interessare, quindi iscrivetevi. A questo punto iniziamo con il video operativo, allora andiamo a prendere il grafichetto, eccolo qui, lo prendo a tutto schermo così lo vediamo perfettamente in modalità bella bella estesa. Eccolo qui, questo è un grafico mensile del cambio del cross, aspetta che lo metto, oh eccolo qua, a pieno schermo del cambio cross Neo Zelanda Yen. Su Neo Zelanda Yen avevo fatto un trade circa un mese, un mese e mezzo fa, è un cross che sto seguendo abbastanza da vicino, o comunque non ci ho più fatto trading, ma ancora la struttura dei prezzi, partendo dal mensile fino ad arrivare a un daily, ma soprattutto la struttura grande, quindi mensile weekly, è sicuramente una struttura di prezzo che mi interessa e mi interessa operarci da un punto di vista long, quindi in acquisto Neo Zelanda vendita Yen. Allora che cosa succede? Succede che in questo momento, guardate, questo è gli ultimi 4, 5, 6 anni di Neo Zelanda Yen, avevamo avuto questa discesa negli ultimi anni e poi nell'ultimo periodo, quindi da febbraio 2020 in avanti, c'è stata una tendenza rialzista praticamente perfetta, praticamente molto molto chiara, che si è venuta un po' a frenarsi quest'estate in questo livello, quindi area diciamo 79, 79, 70, quasi area 80, per poi creare un pullback, questo mensile, quindi un grafico di ampio respiro, molto ampio respiro di lungo termine, ma tanto per farvi capire. Quindi questo, poi c'è stato quell'affondo che in realtà poi io sono uscito, vi ricorderete, se non avete visto il video, comunque un'operazione che avevo fatto, poi ho preferito uscire, e adesso probabilmente, non perché voglio ritornare per forza su questo cambio, ma questo cambio mi sta indicando ancora la possibilità di una risalita, e quindi guardando quello che stanno facendo i cambi cross con Yen e gli altri, quindi quelli con il dollaro principalmente, quindi euro dollaro, strina dollaro, eccetera, e quelli con lo Yen, devo dire che guardando la figura di ampio respiro partendo dal mensile settimanale, nel Neuzelanda Yen risulta ancora il cross, il cambio valutario migliore in acquisto. Quello che proprio, se devo guardare la struttura di fondo, è quella di breve, è quello più interessante per ulteriori allunghi. Quindi questo è il grafico mensile, abbiamo visto questo pullback, abbiamo visto questa fase, che sul settimanale si nota bene, che è una fase di lateralità, no? Nelle ultime, in ultimi mesi, da marzo più o meno 2021, c'è stato poi a maggio questo, e poi quest'estate questa falsa rottura, e adesso guardiamo un po', è avvenuto questo movimento rialzista, questa gamba chiaramente rialzista, che recupera i minimi, che proprio nella scorsa settimana, chiude appoggiandosi, guardate, sulle chiusure precedenti, va a muoversi con un minimo sulle chiusure che c'erano qui, come potete notare, e che corrispondono più o meno con il 50% area 70-60, 76-60, scusate, di questa lag rialzista, tipico quindi ritracciamento buono anche sul settimanale, quindi dopo il movimento rialzista, movimento di ritracciamento, tra l'altro sempre su zone chiave di prezzo, ritracciamento del 50%, e qui si crea una possibile last kiss, una delle barre che utilizzo, ma anche un inside fake out, cioè una barra che rientra, avendo avuto delle inside bar, queste due qui, questa diventa un outside, va a rompere, ma non ce la fa, recupera addirittura, rientra all'interno dei range, e quindi in questo caso il breakout, la rottura, il movimento al di sopra, come volete, dei massimi settimanali, andrebbe a convalidare il mio trigger long, per andare a farsi un movimento di un po' di pips, qui ovviamente si parla sempre di breve termine, non voglio parlare di mesi, però credo che qualche settimana di movimento la possa dare, vedete com'è impostata la situazione, tra l'altro questa qui, andiamo a vedere, potrebbe anche essere un FTV, no, non è un FTV, forse bisognerebbe andare a controllare queste chiusure, ma comunque è una possibile dinamica FTV anche, diciamo così, quindi molto interessante questo mix di trigger, nella struttura di fondo, dopo aver fatto questo collasso nel mese di agosto, fine luglio-agosto, qui, quindi due volte falsa rottura, e falsa rottura della falsa rottura, a questo punto, questo può diventare veramente il classico movimento, chiamiamolo così, 1, 2, 3, di swing, che può riportare i prezzi a fare il movimento long, che come primo obiettivo, avrà la zona tra 79, 60 e 80. Se andiamo a prendere infatti le estensioni di questa leg, quindi facciamo così, prendiamo un po' più ampio respiro, eccolo qua, vedete come ho segnato delle zone rosse, che sono, cioè rosse, più in grossetto diciamo, che sono le più importanti, che sono questa zona di minimo, questa zona di massimo, e questa zona di massimo, e se andiamo a notare, ci sono delle zone intermedie, che corrispondono con le estensioni di questa leg, con i livelli di prezzo, che ho segnato ancora tempo fa, e che sono queste, e che sono diciamo le zone di presa profitto, in realtà di un movimento long, di più ampio respiro anche, quindi, prima zona, nel momento in cui romperà questo livello, sarà l'area di, primo target, chiamiamolo così, l'area 80, 79, 90, corrisponde con il 130, 90, di estensione, della volatilità di questo, quindi primo punto chiave importante, che confluisce con questi massimi, poi abbiamo perfettamente, il 161,8, importantissimo livello, 81,20, che corrisponde, con questi massimi, che hanno fatto buttare giù poi, i prezzi qui, come potete notare, facendo anche una falsa rottura, e poi successivamente abbiamo, direi l'ultima area, almeno momentaneamente, di questo trigger, che è la zona 211,8, pari a 83,25, che, diciamo, area 83, io ho 82,97, quindi area 83, ma, vedete che, sono delle chiusure anche più alte, che prende proprio questa zona, e che corrisponde con questo, quindi abbiamo delle confluenze, anche nella lag, che porta sui prezzi, che crea questo, molto interessanti, e per finire, anche a livello di target, di questo possibile trigger, che ovviamente andrò a valutare, in ottica operativa, durante le sessioni del platinum, che facciamo giornalmente, per chi ovviamente è iscritto, alla scuola, al mentorship, e che ovviamente trovate, la possibilità di, iscrivervi, direttamente dal sito, iarforex, che vi faccio vedere, non lo faccio mai, ma abbiamo anche rinnovato un po', la veste grafica, eccolo qua, se andate su servizi, trovate assolutamente, da qui, eccolo qua, aspettate un po', eccolo qua, mentorship platino, e su mentorship platino, troverete un po', tutte le caratteristiche, della mentorship, quindi, diciamo, ci sono un po', tutte le varie situazioni, e quindi, se farò questo trade, ovviamente lo andremo a condividere insieme, lo gestiremo, nella, durante le varie sessioni, anche perché sapete, che io faccio un trading, non di un giorno, ma solitamente, un paio, due, tre giorni, minimo, solitamente, anche di due, tre settimane, no, poi ci sta anche il trade, che è durato di più, in realtà, come c'è il trade, che dura anche di meno, ma, insomma, in linea generale, mediamente, è un trading multi-day, ecco, quindi, in questo caso, direi molto interessante, questa cosa, prendo anche il trigger, in side fake out, diciamo, FTV, che si è venuto a creare qui, e che può diventare un last kiss, nel momento in cui viene rotto, quindi crea anche lo swing, andiamo a prendere anche le estensioni, di questo setup, che diventano le estensioni, un po' di più breve termine, diciamo, allora, facciamo così, eccolo qua, c'è un'area, che è appunto la zona questa, su cui mi concentrerei maggiormente, ovviamente c'è importanza qui, quindi questo è sicuramente un'area super importante, che vedete, e corrisponde bene o male, con queste due zone, ma la cosa che mi fa più essere attento, guardiamo un po', è la zona questa, la zona intermedia, dove potrebbe esserci, più i prezzi, potrebbe essere che più i prezzi sentiranno, ecco questa zona, che è la zona 81, 81,20, quindi, perché, vedete che è la zona che corrisponde, con il 161,8 della leg grande, e il 261,8 dello swing FTV, che ovviamente, se la skis, se dovesse essere rotto, verrà convalidato, ricordiamo che, nel mio modo di fare trading, se il mercato dovesse continuare a scendere, questo lo voglio dire, sottolineare per qualcuno, che magari non è molto avvezzo, al mio approccio, ma se da qui non ci dovesse essere, il breakout di questo massimo, e quindi si dovesse continuare a scendere, è ovvio che per me, questa view, non sarebbe neanche fallita, perché non verrebbe nemmeno mai convalidata, quindi sopra, questo, quindi, in questo caso, praticamente, noi abbiamo la zona che passa per 81,81,20, che diventa una confluenza assurda, enorme, qua, che potrebbe diventare il vero target, di questa possibile operazione, dico possibile, appunto, ci deve essere la convalida, e comunque andrò a esaminare un po' il tutto, ovviamente in settimana, quindi, adesso andiamo a prendere un daily, e sul daily notiamo questo, quindi sul daily, vediamo che, allora intanto, avremmo da vedere come entrare, ma ovviamente stabiliremo un po' l'entrata, però vedete che il punto di entrata potrebbe diventare tra qua e qua, diciamo, questa è la zona di entrata, la zona di uscita migliore, diciamo, almeno attualmente, non è nemmeno il massimo precedente, anche se qui, ovviamente, c'è la possibilità che il mercato scenda, quindi, essere molto attenti, magari anche incassare, poi rientrare su uno swing, diciamo che questa diventa la zona che ha più confluenza, e più interessante, e poi c'è sopra la zona che dicevamo, l'area 83, che è sicuramente, avete visto nella leg più importante, la zona più importante, sembra averne, sembra averne, guardate anche il 100% di questo, è sicuramente, quindi, facendo 0-100, questo, è sicuramente un bel movimento, una leg molto chiara, che può, in effetti, portare un movimento ampio, verso l'alto, il 161,8, appunto, di quella leg, è quello lì, il 261,8 del segnale settimanale, è quello, è sempre questo, quindi, andrei a vedere così, io, in ottica operativa, in ottica proprio di, adesso tolgo un attimo di cose, ecco, e in ottica di trading, allora, questa settimana, valuterò, su grafico daily, ovviamente, anche, che cosa mi dirà il prezzo, perché, allora, ci potrebbe essere la rottura del massimo, a quel punto, va a convalidarsi, la, il setup settimanale, benissimo, ci siamo, però, vedendo come è impostato, il daily, se voi andate a vederlo, adesso, ha fatto, praticamente, che cosa, l'ultimo swing, è questo, qua, ha fatto, quindi, minimo, massimo, minimo, massimo, quindi, ha fatto un massimo, anche più alto, essendo una candela nera, potrebbe riportare, magari lunedì, un ulteriore movimento, al ribasso, per creare lo swing, sul daily, ecco, che questo, potrebbe diventare, anche, un punto, di possibile entry, nel caso, in cui, ovviamente, faccia questo, entrare, invece di entrare a breakout qui, entrare a breakout prima, quindi, diciamo, anticipare, un po' il breakout settimanale, vista la formazione, dinamica weekly, scusa, dinamica daily, volevo dire, e quindi, entrare, magari, su una zona, come potrebbe essere, appunto, tra 77,50 e 78,20, quindi, diminuire lo spettro di entrata, quindi, con un timing più, più, più interessante, diciamo, e a quel punto, cercare quel movimento, verso l'alto, quindi, assolutamente, interessante, in questo caso, direi che, allora, lo stop di posizione, migliore, a questo punto, ovviamente, il paracadute, maggiore, migliore, dove, probabilmente, la situazione, viene completamente fallita, è sotto qua, cioè, è normale, che sia sotto lì, quindi, io, sinceramente, mi andrei a mettere sotto lì, è ovvio, che, anche, cioè, il fallimento, del pattern, weekly, deve essere vista, perché, nel caso in cui, magari, fa così, poi, magari, uno entra qua, io entro qui, e poi, inizia a scendere, non mettersi proprio qui, perché, magari, potrebbe fare questo, avete capito, come, poi, io potrei addirittura, in questo caso, anche incrementare, una posizione, spostando, il paracadute qui, oppure, non fare nulla, ma spostando il mio rischio, quindi, piuttosto di mettere, un 1%, facciamo esempio, entro qui, e un 1% di rischio qui, magari, mi metto, un 1,5 qui, e a quel punto, anche un 1,5, 2 punti percentuali, più ampi, però, più manovra di gestione, sempre con un rischio comunque basso, che quando arriviamo qua, siamo circa all'1%, comunque, in quel caso, avete capito, quindi, probabilmente, in ottica di gestione del rischio, potrei fare, un certo tipo di, di riflessione di questo tipo, Vabbè, comunque, staremo a vedere, soprattutto per, quando, durante le 3D Room Platinum, andremo a seguire, questo tipo di mercato, è interessante. Per concludere, poi, perché ormai, sono un po' di tempo, che sono live, in questo momento, devo dirvi che, la situazione, in generale, Yen, collegato, diciamo, in correlazione, con, principalmente, gli indici, più importanti, di borsa, quindi, gli americani, alcuni europei, eccetera, è una situazione, che in effetti, anche a livello correlativo, sembra essere pronta, per vedere, un Neo Zelanda Yen, e in generale, lo Yen, indebolirsi ulteriormente. Quindi, adesso, io non vi ho fatto vedere, come, ho guardato anche, il dollaro Yen, il Neo Zelanda dollaro, le altre, ho guardato gli indici, sono cose, che magari, poi, approfondiamo, anche sempre giornalmente, nell'area Platinum, nelle trading room, però, ecco, per dirvi, che anche a livello correlativo, questo mercato, sembra, direi, pronto, anche a livello così, globale, vedendo un po', inserendolo, e un po' in tutti gli altri mercati, sembra pronto, per un movimento rialzista, nelle prossime settimane. Quindi, io probabilmente, dico probabilmente, perché poi, io giornalmente, poi valuto, anche il da farsi, valuto un po', se fare o meno certe cose, però molto probabilmente, questo potrebbe diventare un asset, nel quale andrò a investire, nel breve termine, in un'ottica di trading, come al solito, nelle prossime appunto settimane. Va bene? Benissimo, allora, io a questo punto, vi saluto, eccoci qua, vi saluto, vi auguro una buona domenica, e un buon sabato, vi ricordo sempre di lasciare un mi piace, e di iscrivervi a questo canale, e al massimo attivare anche la campanella, che trovate nella home page del canale, perché così vi fa rimanere, con le varie notifiche, sempre insieme a noi, o comunque vi dà, insomma, tutte le varie notifiche di video, e delle live che facciamo, e basta. A questo punto, mi sa che abbiamo detto tutto, commentate ovviamente, se avete qualcosa da dire, se c'è qualcosa di interessante, insomma, da seguire, io vi auguro ovviamente, un buon weekend, vi dico sempre che, settimana prossima, lunedì e mercoledì, abbiamo il solito live, trading room, e Q&A insieme ad Antonio, e a questo punto, direi che per oggi è tutto, io vi saluto, e vi auguro, un buon trading simple, per la settimana. Grazie.